Ciao a tutti! Allora, sempre in questa serie di puntate, diciamo di video podcast, in cui vi parlo dei temi sanità, una delle cose che mi è stata più volte richiesta è la questione punti nascita. Come la vedo, come la penso, come io credo che vada gestito il tema punti nascita. Allora, su questo io ho delle idee molto articolate, nel senso che la retorica che è stata utilizzata in questi anni non la condivido completamente, nel senso che ci sono alcune verità che sono state dette dalla parte dell'amministrazione, della gestione, sulla sicurezza, su tutta una serie di aspetti, ma ci sono anche delle altre verità non meno importanti, non meno vere, tra virgolette, delle prime, che sono state in realtà omesse. E soprattutto politiche regionali che sono state assolutamente deliranti, deliranti le une con le altre, perché, come si dice, mano destra non sa cosa fa la sinistra e viceversa. In questo caso mano sinistra, forse, visto che era la sinistra la chiamata a governare. Ora, voi sapete che il tema dei punti nascita deriva da criteri di sicurezza, raccomandazioni che prevedono un numero di parti minimo per garantire che ci sia una certa manualità da parte degli operatori un volume di attività che garantisca degli standard di sicurezza, e questo è innegabile, questo è una delle verità, la verità che è stata utilizzata. Poi però c'è anche una seconda verità che riguarda quella del sistema di emergenza. Perché? Perché la popolazione oggi, che si trova soprattutto nelle aree difficili, nelle aree disagiate, in particolare nell'Appennino, si trova in difficoltà molto spesso a poter raggiungere nei tempi e nei modi che sarebbero ideali i punti che sono residui, quindi sostanzialmente i punti nascita hub. La regione non ha previsto una rotazione degli operatori, e ovviamente questo è uno dei temi che è la terza verità, diciamo, che c'è. Ovvero, se tu devi garantire un numero di parti per garantire la manualità, per garantire che gli operatori siano formati e via discorrendo, questo è sicuramente vero, ma si può ottenere anche facendo la rotazione degli operatori tra aree ad alto e aree a basso volume di attività, perché chiaramente chi sta in Appennino ha dei diversi volumi rispetto a chi sta in città, e quindi tu puoi far mantenere la manualità anche facendo rotazioni. È ovvio che questo comporta delle azioni sui contratti, delle azioni di adeguamento, che oggi non sono universalmente, diciamo, possibili, accettabili e via discorrendo. Poi c'è il tema di tutta quella che è l'assistenza e di trovare il personale, quindi ginecologi, pediatri, neonatologi, anestesisti, rianimatori, cioè tutto quello che oltre alle ostetriche è previsto sia disponibile, diciamo, in determinate strutture. Ora, ora, vediamo alla seconda questione, che è il servizio di emergenza, cioè se io devo prevedere che poi queste donne che arrivano al parto e che dovrebbero partorire in una data presunta, ma poi molto spesso succede che o sono prima o in alcuni casi anche dopo, o certe volte hanno una complicazione durante appunto la gravidanza e devono essere trasportate al punto di emergenza, quindi al centro hub, diciamo, al punto nascita di grande volume di attività nel centro città, questo è ragionevole che possa accadere, ma non è coerente con la strategia utilizzata dalla regione di riduzione dei mezzi di soccorso medicalizzati, per esempio. e non è nemmeno coerente con la logica di creare equipaggi che debbano affrontare queste situazioni senza ovviamente personale medico, personale chiaramente ostetrico che sulle ambulanze di norma non è presente e quindi, diciamo, le due politiche messe in atto dalla regione Emilia-Romagna sulla rete di emergenza territoriale e sui punti nascita cozzano mostruosamente. Cozzano mostruosamente anche per un terzo, che è l'elemento di ragionamento che voglio invitare tutti a fare che se è vero che io devo garantire la sicurezza, allora il parametro che vorrei vedere non è solamente la verità reale, oggettivamente anche documentata, dei 500 parti come cut-off, diciamo ma è anche nei punti nascita precedentemente a questa riorganizzazione dove i parti erano 200-300 quelli che erano, al netto del fatto che la rotazione del personale è sempre buona cosa In questi punti, qual era il tasso di messa a rischio della paziente? Perché nel punto nascita piccolo comunque avevi ostetrica, pediatra, neonatologo eventualmente o pediatra, uno dei due dove l'anestesista, il ginecologo, di solito questo è il punto, diciamo la dotazione minima che l'ospedale, sede di punto nascita comunque doveva garantire Sui mezzi di soccorso, parte delle automediche chi hai chiuso, invece chi trovi? Medico, infermiere, autista soccorritore, se va bene, magari medico-infermiere se c'è l'automedica magari un secondo infermiere dell'ambulanza e l'autista soccorritore Quindi non possiamo pensare che chiaramente del personale che è adibito normalmente a fare altro abbia le stesse competenze di chi appunto ha i più di 500 parti anno e questo però è un discorso un po' aleatorio e lo dobbiamo analizzare da un punto di vista numerico Da un punto di vista numerico dovremmo fare un ragionamento molto scientifico, molto più serio e dire bene, nel modello precedente dove c'avevo tutto, ostetrica, pediatra, neonatologo e via discorrendo nel punto piccolo quante volte accadeva che dovevo trasferire, dovevo fare un parto precipitoso in emergenza con qualche altro operatore? Punto di domanda Succedeva X numero di volte dato che non è mai stato reso noto in questi anni Quante volte invece dopo che abbiamo chiuso il punto nascita si è verificato che ci fossero parti per la strada, precipitosi eccetera senza ostetrica, ginecologo, anestesista, pediatra e via discorrendo ma solo col personale del 118 che per quanto preparato è bravo chiaramente però non fa quello di lavoro tutti i giorni bene, questo è il dato che manca quindi al netto del fatto che sappiamo di fatto perché anche Bonaccini l'avrebbe dovuto, l'aveva promesso, l'avrebbe anche magari voluto rifare al netto del fatto che una volta che chiudi qualcosa puoi riaprirlo diventa molto complesso perché nessuno vuole lavorare in certe aree gli ospedali sono stati di fatto smontati e svuotati di tutto quindi anche la popolazione di medici, di colleghi, di specialisti è diventata rarefatta e nessuno vuole andare a lavorare in posti dove gli specialisti e i colleghi sono rarefatti in numero e ovviamente in possibilità di confronto, di supporto questo quindi è un tema molto più complesso di come è stato affrontato del 500 parti sì, 500 parti no bisogna mettere e fare un'analisi un'analisi seria, documentata mettendo insieme i dati del 118, delle neonatologie per vedere qual è effettivamente il punto migliore per i pazienti che sono quelli che noi dobbiamo tutelare cioè si rischiava più prima o si rischia più dopo e a quel punto bisogna vedere territorio per territorio, modo per modo e capire quali sono i margini poi realistici per riuscire a fare gli eventuali, perché non è detto che ci siano interventi di correzione spero di aver, come dire, ricostruito e analizzato il problema anche da questa prospettiva un po' diversa da quella che è stata solitamente propinata alla popolazione e ovviamente sono disponibile nei limiti di quello che è possibile a spiegare anche ulteriori fenomeni ovviamente se sono competente su per farlo grazie e a presto